Allora, a proposito dell'uscita della Gran Bretagna, non doveva fallire con l'uscita dell'euro, vendono a fumo e quando ti fondono queste bagianate dovrebbero scriverci come le sigarette nuoce gravemente alla salute, fanno terrorismo psicologico. Su questo ha perfettamente ragione. Qua c'è un altro messaggio, ho lavorato una vita per mettere via i soldi, lo Stato mi impone di metterli in banca, se così è lo Stato deve garantirmi che i miei risparmi rimangano altrimenti paga, come del resto pretendono da noi con le tasse. Ma questo ragionamento di base è anche corretto secondo me, perché nel momento in cui tu devi avere un conto corrente, il cittadino a un certo punto non è che può diventare, e questo ce l'hanno scritto in tantissimi, ha ragione veduta, diventare esperto di tutti i settori, se tu non pretendi Stato che io transiti questi soldi per un conto corrente, che la liquidità deve essere ridotta a pochi spiccioli, assolutamente mi devi dare garanzie, altrimenti il cittadino si trova spaesato, allora giriamo con le monete, con il cash e non mi far storie se giro con… la solita poli italiana che per risolvere il problema, che tutti i problemi devono risolvere, stabilendo delle regole, adesso poi la polemica di questi giorni sui fondi, risparmio tradito postale, questi fondi immobiliari venduti negli anni 2000, prima della crisi finanziaria che si sono ridotti ai numeri… viva Dio, se il mercato immobiliare è andato dove è andato, anche i tuoi fondi immobiliari comprati alle poste non possono essere… bisogna che abbiamo la percezione che si tratti di investire in oro, in diamanti, in finanza, in fondi, in azioni, tutto quello che compro non me lo potrà mai garantire nessuno, è anche assurdo pensare che abbiamo bisogno di un papastato che vigili sulle nostre cose. nostre cose, noi non abbiamo una scarsissima cultura finanziaria diffusa, non abbiamo nemmeno voglia di, perché gli 85 miliardi che spendiamo ogni anno in gioco dell'otto, è un dato di questi giorni, ma siamo nel Paese, in Europa siamo nel Paese che si mangia più soldi di tutti con lotterie, grattevinci e quant'altro, ma questa è una scelta nostra e su questa nessuno ci può dire nulla, li mangiamo come vogliamo, viceversa pretendiamo che in cose in cui non vogliamo applicarci e in cui abbiamo poca competenza ci sia qualcuno di sopra di noi, un papastato che vigila. Il papastato ci riempi di regole enorme, quindi abbiamo a bizzeffe, che però non ci salva nel caso di Popolare dei Truri, di Valmetto Banca, di Vicenza, dove sarebbe bastato un po' di buonsenso. Un mio caro amico commercialista che di finanza non sa nulla, tre anni fa vendette tutte le sue azioni o due anni fa, comunque prima, perché diceva io mi sono andato a vedere il bilancio che è pubblico, mi sono preso quanto vale la banca, il numero delle azioni, ho visto un po' di numeri che erano pubblici e ho capito che la cosa non poteva stare in piedi, quindi ho deciso di venderla, certo non tutti siamo commercialisti, non tutti siamo, ma questo per dire è che laddove è arrivato un commercialista di suo, posso anche dire che sono almeno dieci anni, che sui giornali, che su tutti i quotidiani, in maniera molto chiara, qualche dubbio sulla testa degli sfarmiatori legato a queste vicende è stato insinuato, è stato insinuato. Poi non c'è peggior sordo di chi non va ad ascoltare, peggior c'è di quello che non può vedere, non abbiamo bisogno di fidarci quando poi la fiducia viene tradita, nonostante i ripetuti segnali, in questo caso comunque ci attacchiamo al papastato che deve risolvere la cosa. Questa vicenda a cui ti accennavo prima di Spinea, di questo avvocato che cerca di perorare, cerca di perorare la causa di 20 sparmiatori barri evasori che si sono tenuti per 11 anni, oltre il termine previsto per la conversione in Euro, 5 mila miliardi di vecchie lire, quindi 2 miliardi e mezzo di Euro e che non sanno come trasformarli o come recuperarli in Euro, o tutta una serie di cose abbastanza curiosi e risibili, quindi è il tipo, ma una richiesta in cui sono anche disposti a versarli in conti corretti, non di provvedere a una trasformazione semplicita, portare carta e ricevere carta, ma sono anche disposti ad avere i miei conti. Sono un operaio, ho studiato una vita come si costruisce una casa, ma di finanza non capisco niente, non penso che possiate pretendere diversamente, lo Stato deve tutelare i propri cittadini, specie più vulnerabili, non per far profitti, per rimarchare quanto abbiamo detto. No, ma è vero, tornando al discorso di prima, non si possono dare risposte semplici a situazioni complesse, non si può anche pretendere di fare continuamente corsi di finanza per insegnare alla gente tutto quello che bisogna sapere per pianificare i propri investimenti, è come dire a uno, senti, siccome ogni tanto capita a qualcuno di noi di ammalarsi, è bene che facciamo dei corsi di medicina in modo che ognuno di noi sappia individuare i farmaci più opportuni, questo non è possibile. Nel mondo occidentale esistono le banche, esistono le assicurazioni e chi lavora nelle banche nelle assicurazioni deve, perché sono aziende commerciali e quindi prosperano e hanno una ragione d'essere soltanto perché riescono ad attirare la fiducia dei loro clienti, quindi sceglietevi una banca disposta ad ascoltarvi e spiegarvi le cose, non sono cose complicate, un po' alla volta, come maturi competenza su cose anche marginali, come funziona un'auto, le prestazioni della tua auto, riesci a pianificare il tempo che dedichi alla pianificazione delle vacanze, dedicala anche a comprendere i meccanismi di pianificazione dei tuoi investimenti, che sono cose estremamente importanti e fondamentali, ma non sono complicatissime, se trovi di fronte a una persona che deve per sua missione, perché è pagata per far quello, spiegarti le cose con semplicità e chiarezza, questa persona riesce a capire poi quali sono le tue necessità e a proporti le soluzioni più idonee. Tornando un po' al discorso di prima di questi investitori, questa vicenda che è sui giornali di in questi giorni, questo bruzzolo enorme di lire che è ancora da convertire, è un tesoro, un vero tesoro, 5 miliardi di lire, sono 2 miliardi e mezzo di euro, che chiedono di lire, che chiedono di poter essere trasformate d'incanto in euro, fuori dai tempi massimi, i tempi che erano mi pare alla fine del 2011, il decreto Monti ha accorciato questi risparmiatori di barre evasori, la loro intenzione era quella di aspettare che fa trascorrere sui tempi anche perché si prescrivessero alcuni reati di natura finanziaria e penale, quindi il decreto Monti ha accorciato i tre mesi, gli ha un po' sballati, è stato un ricorso in Cassazione e adesso c'è una trattativa tra questo studio legale, l'Agenzia delle Entrate, Banca Italia perché si possa arrivare a… ma è sballutativo dal fatto che ci siano state o ci siano comunque state o ci siano ancora masse ingenti di denaro che sono lì ferme. insomma, quando si parla di evasione, questa è una delle cose che ti fa capire quanto sia stata pesante per il sistema crescita, per il sistema economico del nostro territorio. Per cui questo è un paradosso. Sì, è un paradosso, però due miliardi e mezzo servirebbero per salvare le due banche del territorio. Eh sì, auguri a tutti di TV7 con voi di un anno diverso, quantomeno dove si intraveda qualche novità all'orizzonte, meglio se positiva, a scapito della monotonia che le nostre misere televisioni nazionali ci propongono, grazie al nostro telespettatore o telespettatrice degli auguri. Ritornando un po' al discorso di prima che avevamo un po' divagato, la Gran Bretagna appunto e Brexit si era anche detto, il rischio che ci fosse un patatrack, insomma poi lo stesso discorso con il referendum, attenzione che se Renzi si dimette, l'Italia chissà che fine fa, se non passa il referendum, la modifica costituzionale, disastri e poi alla fine, tanto per cambiare nulla di così grave. La percezione è che da una parte ci sia ormai quasi irreversibile impossibilità di fare delle previsioni che abbiano un qualche senso, cioè tutte le previsioni che sono state fatte negli anni, nel recente passato, legate a Brexit, legate al nostro referendum, legate alle elezioni degli Stati Uniti, non hanno sortito, non sono stati assolutamente, non hanno sortito quegli effetti che erano stati minacciati, sono ventilati per ciò che riguarda l'andamento della borsa, dei mercati, del debito e quant'altro. Per quanto riguarda le previsioni su cicli economici, questi sono, non dico più facili da fare, ma si riescono a fare perché certi fenomeni, quindi quelli legati agli acquisti, quelli legati al mercato del lavoro sono digitali, quindi sono dei dati dei quali possiamo avere un riscontro e su questi dati ha più senso fare delle previsioni. Tutto quello che è legato alla politica o all'evoluzione comunque del consenso, quindi l'andamento o il senso che hanno oggi fare gli exit poll, non hanno più senso sostanzialmente, quindi vedo difficile fare delle previsioni basandoci su quegli aspetti. Per ciò che riguarda invece l'economia, quella reale, quelle delle imprese, quelle del credito, quelle dei tassi, ovviamente queste sono situazioni più riscontrabili, noi sappiamo sostanzialmente qual è la dinamica dei prezzi su quello e è facile capire che le tassi andranno su, le tassi andranno giù. Chiarissimo, torniamo su questi argomenti e tiriamo un po' le fila ancora della situazione dando un occhio agli altri paesi e alle altre realtà, ma dopo la pubblicità.